Aneurisma della orta addominale. Chi sono le persone più a rischio? Ma vi spiego. Gli ipertesi, gli arteriopatici, chi soffre di patologie respiratorie, i soggetti con familiarità, i fumatori, chi ha più di 60 anni. Azz, ci sono pure i cammini. A dire il vero però colpisce più gli uomini. In ogni caso una semplice ecografia aiuta a prevenire il malanno. Stai sereno con lo screening.